Anche se adesso io bisogno di me, assolutamente, perché se per caso la signora in particolare dice qualcosa di tutto sulla mamma, io non devo ferma, ma io devo pitiare. Sì, andiamo? Noi si chiedevano a Matteo. Allora, perché? Anch'io sono quattro, lo sai? Anche se non so leggere bene e vedo le parole che vanno. No, non so che si è fatta bene. Mi siede ancora un po' azzia. Venga. No, non so che si è fatta bene e vedo le parole che vanno. No, non mi hai spaventato. No, non mi hai spaventato. No, non mi hai spaventato. No, non mi hai spaventato.